Controlli anti-covid a tappeto a stradella dove carabinieri e polizia locale nel weekend appena trascorso hanno disposto la chiusura di due locali e ne hanno sanzionati altri per il mancato rispetto dell'orario di esercizio, oltre a multare una decina di clienti dei bar perché non indossavano la mascherina. È il risultato del controllo straordinario scattato nelle sere di venerdì e sabato a partire dalle 21 nella cittadina dell'Oltrepo orientale. L'operazione ha visto in campo una quindicina di pattuglie che hanno svolto controlli in tutti i locali più frequentati dai giovani nel fine settimana. Niente assembramenti e uso delle mascherine obbligatorie, come noto dalle 18 alle 6 del mattino successivo, laddove non sia possibile garantire il distanziamento, ovvero in pratica dentro e spesso anche fuori dai locali. E sono almeno una decina dunque gli avventori che sono stati sanzionati per il mancato uso dei DPI. Per loro una multa da 400 euro che se pagate entro 5 giorni scenderà a 280. Sanzioni e sospensione della licenza anche per i baristi che non hanno rispettato le prescrizioni per evitare nuovi contagi. Due locali sono stati chiusi per motivi diversi. In un caso non sarebbero stati rispettati gli orari di apertura nei giorni precedenti, mentre in un altro bar venerdì sera è stata riscontrata la presenza di troppe persone assembrate e il locale è stato chiuso per il pericolo immediato. L'esercizio, che ha poi riaperto nella giornata successiva, sarebbe ora in attesa di ricevere comunicazione sulla sospensione di 5 giorni della licenza.